Allora ragazzi, finita la partita col Benfica, com'è andata? Bene, bene, siamo partiti non benissimo e loro vincevano 2-0, poi però abbiamo rimontato e abbiamo vinto. E questa è finita? 6-3. Tutti mi stavano chiedendo, ma i rigori 6-3? No, no, no i rigori, sul serio. Ma loro sono cattivi, avevano usato un po' le due o tre partite nel campo. Sì, entravano non benissimo, però l'arbitro poteva gestire un po' meglio, però alla fine... Hai fatto una cosa pulissima alla fine? A chi lo dedichi? Ah, Leo, che si è fatto male. Eh, ma Leo c'ha già la ragazza. Dove hai detto che è la ragazza di Leo? No, no, no.